Ferini, Ferini, che succede Ferini? Hai avuto un attimo di... Ma là c'è il boxello, fammi la cortesia, in questi giorni di pacificazione nazionale... No, ecco lì il problema, è una pacificazione o è una belligerazione? Eh lo so, lo so, purtroppo non... Questi perigionali mi saranno te. No, non sappiamo ancora i dati. Adesso non sappiamo i dati. Ci hanno, abbiamo, abbiamo le sveste, la prova, tutti i giorni... E va bene, ma... Non è stato teletrasmesso ancora. Siamo in corso di ricevimento dei dati di questo stupic. Va bene, ma questo è perché legge il giornale... Di quadrettato, ma è solo parziale attualmente. Ma finché lo leggi sui giornali, prima che lo leggi sui giornali so vedi, se ne vuole... Sto parlando anche con questo della Simmental, sembra che certe foto si sono messe in mezzo, lui è stato anche sette volte in Svizzera, là i dati li hanno sempre prima di noi, perché loro hanno il collegamento prima col via delle banche, ci arriva tutto prima le banche, questo lo dice anche il ragionamento stesso. Loro insomma, sembrerebbe che certi dati non li fanno venire nella stratosfera, ci sarebbero delle come dei filtri, delle garze di roba, non arrivano giù questi dati dello sputting del quadrettato. Mettiamo in belta qualcuno e è il caso di far vedere l'Aeronautica o qualcosa. Io dico di sì. Ci sono destini di centinaia di milioni di miliardi di persone, capito? E non si scherza con le cose. Lo diremo alle autorità, io non ti posso rispondere, lo diremo alle autorità così, non so che altro di... Grazie, non lo capisco, ma mi adegno. Vabbè anche io, grazie, grazie. Ma non applaudite, stiamo dicendo, non applaudite.